Hogwarts Legacy è transfobico, è genocida, è antisemita, è pandemico, è guerrafondaio, è truffaldino, ma tranquilli, anche dei difetti. Parliamo delle controversie intorno a questo videogioco creato dal mondo di J.K. Rowling, come sempre, dopo la sigla! Uno spettro si aggira per il web. Lo spettro di Daily Cogito. Zombie si è davvertiti. Una voce si aggira per Hogwarts. Chi non boicotta Hogwarts Legacy, chi non boicotta J.K. Rowling, avrà l'anima divorata dai Mangiamorte, diventerà forse un Horcrux. E questo boicottaggio che sta prendendo così tanto piede nella comunità LGBT, di cui si parla continuamente, articoli su articoli, che oggi vedremo insieme e commenteremo puntualmente, si è rivelato un fallimento. Perché quello di Hogwarts Legacy è il lancio di un videogioco di maggior successo dal 2018, dopo Red Dead Redemption 2. Quindi un successo veramente enorme. Praticamente il 50% di vendite in più rispetto ad Elden Ring, che l'anno scorso ha avuto un successo straordinario. E non solo, ma Hogwarts Legacy ha fatto anche il maggior numero di spettatori in livestream su Twitch e sulle piattaforme di streaming, quindi anche YouTube, nella storia dei videogiochi. Quindi un sacco di streamer hanno streamato durante il giorno di lancio e c'erano, se non sbaglio, 800.000 spettatori contemporaneamente in tutti i canali, che è una roba abbastanza grossa. Cacchio, spero anch'io di essere boicottato un giorno allo stesso modo, perché sai, queste cose sembra che abbiano un effetto un po' particolare. Allora, questo avvenimento, il lancio di Hogwarts Legacy, ha però rinfocolato una polemica che ormai da tempo divanta, divampa, anzi non divanta, le polemiche nei confronti di J.K. Rowling, l'autrice di Harry Potter, la creatrice di Hogwarts, che ormai è diventata Voldemort agli occhi delle frange più estreme della comunità LGBT trans. Chissà se hanno già trovato qualche horcrux, me li vedo andare in giro a cercare degli artefatti per distruggere i backup dell'anima della Rowling. E questa cosa mi ha sempre lasciato un po' perplesso, perché trovo che le posizioni di J.K. Rowling siano controverse, siano problematiche, spesso anche fin troppo provocatorie, però dall'altra parte che la reazione di questo fandom sia qualcosa di spropositato. Perché quando io guardo a quello che è avvenuto a J.K. Rowling, persona che sinceramente non è che sta né simpatica né antipatica, io ho amato tantissimo i suoi libri, hanno dato tanto alla mia vita e ancora oggi quando li rileggo sono molto molto contento, perché credo che la saga di Harry Potter abbia un valore intrinseco molto molto importante, non solo psicologicamente per me, ma anche come opera letteraria. Secondo me è un'opera che ha un valore importante e mi dispiace sapere che tante persone magari sull'onda di queste polemiche non si potranno godere o saranno convinte a non godere di cotanta beltà. Credo che sia uno degli esseri umani più odiati al mondo, ma attenzione non odiata da una larga massa, perché io credo che la grandissima parte delle persone che stanno nel mondo reale spesso non siano neanche a conoscenza di queste polemiche e riescano ad apprezzare la saga di Harry Potter, perché hanno visto i film, oppure letto i libri, oppure perché stanno conoscendo il videogioco su cui dopo spendo un paio di parole. È l'essere umano più odiato da una minoranza molto 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 rumorosa che vede nella sua figura un qualcosa di anatemico. Non so neanche se esiste la parola anatemico, ma nel caso lo inventiamo per questo caso, per questo avvenimento. Io non mi stupirei se un giorno dovessi leggere la notizia di una sorta di attentato alla vita, al Rowling, perché mi sembra che sia, almeno su Twitter, l'essere umano più odiato dopo Trump. Perché ho letto veramente nel tempo delle cose veramente terribili, non solo minacce di morte, di stupro, minacce che gli muoiano membri della famiglia, roba veramente rivoltante. E qualcuno potrà dire, beh ma è altrettanto rivoltante quello che lei ha scritto. E non lo so, su questo cercheremo di ragionare. E accanto a tutto questo, il suo brand, quindi tutta la sua opera, il suo lavoro, che l'ha resa famosa e ricca, è stato da anni, soprattutto a partire dal 2020, boicottato per via delle opinioni dell'autrice. Opinioni che nulla hanno a che spartire con il brand, quindi con le storie di Harry Potter. Ora, il boicottaggio di Hogwarts Legacy verte intorno ad un articolo di Wired, Wired USA, perché io di solito Wired Italia lo cerco, cerco di non guardarlo proprio. Wired USA, anche su feed, ogni tanto lo leggiamo perché ha delle cose carine, però ogni tanto sprofonda negli abissi della demenza giornalistica. Ecco questo è uno dei casi. E tutto questo boicottaggio di Hogwarts Legacy, che come abbiamo detto non sta assortendo gli effetti sperati, se non, infatti sta assortendo gli effetti sperati dai produttori del videogioco, questo articolo di Wired, che tra poco leggerò e commenterò integralmente. E in questo articolo io mi sono lasciato trascinare perché ho visto delle cose che mi hanno lasciato perplesso. Intanto l'articolo si apre dicendo Hogwarts Legacy 1 su 10, cioè il voto è 1 su 10. E tu stai e dici, minchia, un videogioco così tanto blasonato, così tanto atteso che fa 1 su 10, io questa cosa l'ho letta ancora prima di giocare a Hogwarts Legacy, ho detto ma che macello deve essere. Cioè Cyberpunk 2077, quando è uscito, che era da 1 su 10, almeno per PS4, in confronto deve essere a questo punto, non so, il sacro Graal. Accanto a tutto questo c'è il sottotitolo, come vedremo, che dice tutto è legato alle opinioni dell'autrice, del mondo di Harry Potter. E già lì mi sorgeva qualche problema perché il videogioco sì è canonico, nel senso che è comunque autorizzato e credo anche in parte scritto dalla Rolling, però mi sembra un po' strana come idea. E io in questi giorni lo sto giocando, abbiamo già fatto anche due live qui, una volta a settimana ci capita di fare dei live stream con dei giochi, ed è un gioco godibile, cioè non è niente di straordinario, ma non è neanche niente di terribile, è uno sparatutto con le bacchette al posto delle pistole laser, quindi un mass effect ambientato a Hogwarts. E devo dire dall'altra parte che l'esperienza e l'atmosfera di Hogwarts, almeno su PS5, è molto godibile, io trovo che sia divertente. Certo ha delle meccaniche molto infantili, ma non da 1 su 10, neanche lontanamente, e quindi lì mi sono detto ma sai che forse questo articolo è meglio leggerlo, forse è meglio non leggerlo, e questo è il motivo per cui è meglio leggerlo. E quindi l'ho letto, e questo articolo è un disastro, ma è un disastro non solo per l'articolo, ma per tutto quello che sta dietro, e che vorrei sviscerare insieme a voi. Prima di farlo però vorrei ringraziare lo sponsor di quest'oggi, perché nel caso voi non possiate leggere l'articolo di Wire, perché che ne so, siete in Nord Corea, c'è sempre NordVPN. NordVPN è sponsor di Daily Cogito da ormai molto tempo, siamo partner con grande soddisfazione nostra, loro e anche vostra, perché tanti di voi hanno scelto negli ultimi anni di usufruire dei nostri codici sconto. Che cos'è NordVPN? Beh, è una piattaforma che ti permette di avere un layer di sicurezza in più nella tua navigazione. In un'epoca in cui è così importante avere ancora accesso a contenuti provenienti da ogni parte del web, in cui però il web è sempre più balcanizzato, ovvero sempre più restrittivo nei confini nazionali, la VPN ti permette di accedere a contenuti che non sono disponibili nel tuo paese. Non solo, la VPN ti permette anche di avere la protezione dei tuoi dati, quindi quando navichi tu di fatto sei invisibile anche ai provider che ti forniscono i servizi. Non solo, NordVPN è una delle poche VPN che aderisce alla politica no log, ovvero anche NordVPN non ha accesso diretto ai tuoi dati, quindi sei protetto da ambo le parti, ed è una cosa molto importante. Se aggiungiamo che con NordVPN hai accesso al servizio Threat Protection, ovvero un anti-spyware e anti-malware inseriti nella VPN, beh allora significa che non c'è veramente nessun motivo per non provarla e grazie al codice sconto che trovi in descrizione non solo avrai accesso a uno sconto esclusivo, ma anche a 30 giorni di servizio soddisfatto o rimborsato. Quindi provate NordVPN, se inizierete a usarlo sono certo che non smetterete più, come faccio io da ormai 4 anni, e grazie a chi deciderà di fare questa scelta, perché è un ottimo modo per supportare la nostra trasmissione e anche per avere accesso a un servizio davvero di alta qualità. Ma adesso torniamo alla nostra lettura di articolo, e quindi in questo Daily Cogito noi andremo proprio a leggere l'articolo, facciamo come su Feed, Feed vi ricordo che è la rubrica che va in live, da lunedì al venerdì alle 12 in cui leggiamo articoli, però di solito interessanti, non cioffeche come queste, ma una cioffeca che merita di essere condivisa, di essere ragionata, e quindi apriamo la lettura. L'articolo è stato pubblicato, come ho detto, su US Wired, quindi Wired statunitense, ed è di Jaina Gray, che è un attivista LGBT trans, M2F, quindi è una persona che ha fatto la transizione, e che di fronte alle posizioni di J.K. Rowling in passato si è sentita, diciamo così, offesa. Cerchiamo di vedere. Hogwarts Legacy non ha niente di buono. Questo è il titolo dell'articolo. Secondo Wired US, quindi questa è la traduzione che viene fatta su Wired Italia, però ho verificato la traduzione e la traduzione è comunque adeguata, il nuovo videogioco ambientato nel mondo di Harry Potter è privo di anima e non si può giudicare senza tenere conto delle posizioni di J.K. Rowling. Già qui avrei qualcosa a dire, ma aspettiamo. Voto 1 su 10. Wired dice, mi ha aiutato a dire addio per sempre al mondo di Harry Potter, quindi questa è l'unica cosa positiva del gioco. Dall'altra parte, invece, la storia si basa su luoghi comuni antisemiti. E poi lo commentiamo. Il gameplay è datato. La grafica sembra vecchia di un paio di generazioni, vero, sono d'accordo, sono d'accordo. Infatti, soprattutto dal punto di vista della morfologia dei volti e anche dei movimenti del corpo, sembra un gioco del 2016. E questo è male, ma me lo aspettavo anche, perché è un gioco che hanno iniziato a sviluppare molti anni fa, e che poi forse hanno rimandato in attesa dell'uscita della PS5, ma è palesemente un gioco ancora old gen. Tutti i personaggi sono monodimensionali, non è fedele alla tradizione, che non si sa bene che cazzo voglia dire. Ogni personaggio sembra una sottomarca dei personaggi che conosciamo e amiamo, manca un senso di familiarità, non c'è magia e nemmeno cuore. Ok, io devo dirlo, ho giocato finora circa otto ore del gioco, mi sembra che queste critiche possano anche starci. Però evidentemente, uno su dieci, se prendo i videogiochi che hanno personaggi monodimensionali, beh, dovrei dare fuoco all'80% dell'industria videoludica. C'è una nota del redattore che dice, su internet l'uscita di Hogwarts Legacy è stata accompagnata da un acceso dibattito che riguarda più estesamente le posizioni e i commenti transfobici espressi negli anni da J.K. Rowling, l'autrice dei libri di Harry Potter di cui il gioco condivide l'ambientazione. Alcune testate hanno scelto di non recensire il titolo, mentre altre hanno deciso di scindere il giudizio nel merito delle parole della scrittrice. Wired Italia ha già pubblicato una recensione di Hogwarts Legacy che ne valuta gli aspetti tecnici e il valore a scopo di intrattenimento, che non vedremo perché le recensioni di Wired Italia, peggio che peggio. Abbiamo tuttavia ritenuto importante dare conto anche di una posizione più critica espressa dalla recensione di Gina Gray su Wired US, tradotta di seguito, che prende in esame l'impatto sociale di Hogwarts Legacy e il contesto in cui è stato realizzato. Quindi, cavolo ragazzi, una cosa pesante. E parte l'articolo. Porca miseria! Anche se non fumo, ho la sensazione che mi serve una sigaretta prima di iniziare. Siamo qui per parlare di Hogwarts Legacy e per farlo dobbiamo discutere di tutto il casino che sta intorno al gioco. Prendete una sedia, versatevi un po' di tè, avvolgetevi in una coperta e urlate pure in un cuscino o nell'abisso. Sarà faticoso sia per me che per voi. Già, vabbè, non commentiamo questo incipit che è palesemente un tentativo di catturare l'attenzione. E teniamoci i commenti per dopo. Hogwarts Legacy è un RPG, cioè roleplay game, in terza persona, ambientato nello stesso universo della serie di libri per ragazzi dedicati a Harry Potter. Nel caso abbiate bisogno di un ripasso, questi libri, l'ambientazione del Wizarding World e il franchise cinematografico di Harry Potter sono tutti proprietà intellettuali frutto della mente della scrittrice J.K. Rowling. Già lì, cioè, non è una contestualizzazione, è un'informazione. Perché la contestualizzazione sarebbe stato dire a un lettore che non conosce la saga di Harry Potter di cosa tratta Harry Potter. Ma qui non viene fatto, si punta subito su J.K. Rowling e continua. È un punto importante perché, da sempre, l'autrice è inscindibile dal suo lavoro e dalle opere che ha ispirato o concesso in licenza nel bene e oggi soprattutto nel male. Mia cara redattrice, no. O meglio, se è forse vero che l'autrice è inscindibile dal suo lavoro, è assolutamente falso che il lavoro di qualsiasi autore sia inscindibile dall'autore o autrice. Ovvero, io per farmi un'idea su un libro, su un film, su un'opera letteraria, su un videogioco, devo poter scindere da chi l'ha prodotto. Sempre. È il motivo per cui io ne ho parlato anche molto spesso in Daily Cogito. Per esempio, quando ho discusso proprio del fatto che le colpe degli autori non dovrebbero mai ricadere sulle opere che producono. Altrimenti non dovremmo più leggere nulla di Céline. Céline ha scritto delle opere straordinarie, però era un razzista, molto violento, aveva anche dei problemi mentali molto forti. Oppure non dovremmo più ascoltare la musica dei Noir Desir, perché il cantante dei Noir Desir è stato un violento che ha commesso degli atti di violenza inaccettabili e ha fatto anche carcere per questo. Eppure, quando io ascolto l'Evon nous porterà dei Noir Desir e me la suono anche con la chitarra quando posso, io devo poter scindere l'opera da quel pezzo di merda che la prodotta. E poi cercheremo anche di capire perché. Ma andiamo avanti. Niente, qui rimarca la dose, niente di ciò che ha impresso il timbro del Wizarding World può essere esaminato senza tenere conto del fatto che si tratta di un prodotto della signora J.K. Rowling, membro dell'Ordine dei Compagni d'Onore e ufficiale dell'Ordine dell'Impero Britannico. Ecco, questo non è vero, non è vero. Se io, quando penso a J.K. Rowling, non posso non pensare a Harry Potter. Io, quando penso a Harry Potter, posso non pensare a J.K. Rowling. Lo posso fare. È libertà. È capacità di analisi. L'opera non vive del suo autore grazie al cielo. Evidentemente, però, in un ambiente sociale, in una società dove purtroppo i personalismi sono sempre più forti, purtroppo questa cosa è molto poco chiara. E spesso noi leggiamo libri e vediamo film in base a chi ne è l'autore o l'autrice. E questa, signore e signori, è stupidità. Ma andiamo avanti. Nelle pagine dei suoi libri, Rowling ha fatto sembrare straordinario l'ordinario. Ha creato un luogo in cui ai bambini strani e soli veniva detto che erano speciali, in cui i ragazzini sopravvissuti ad abusi non erano solo persone irrimediabilmente traumatizzate. Sì, mi verrebbe da dire, anche qua, non è che questo sia il valore di Harry Potter. Questa è una cosa che un ragazzino che ha subito degli abusi può vedere in Harry Potter ed è un plus straordinario. Io sono stato una persona molto fortunata nella vita. Non ho subito degli abusi come tante persone purtroppo hanno subito, quindi mi ritengo un privilegiato e so perfettamente che la mia prospettiva di privilegio, ragazzo fortunato che non ha subito abusi di un certo tipo, può sembrare quasi altezzosa nei confronti di chi invece ha vissuto certe cose. Però non è che Harry Potter abbia solo quel valore lì. Ha dei valori letterari ben precisi. Peraltro, se volete, io ve lo dico, faccio la marchettata, nell'ultimo libro che ho scritto, la persona privilegiata che non ha subito abusi nella sua vita, la parola Don Quixote, c'è una cogitata con Voldemort in cui io dico alcuni dei valori di questa saga. Perché se una saga letteraria vive soltanto del conforto che dà giustamente a delle persone che hanno subito violenze o angherie nel corso della vita, quella è un'opera che difficilmente può avvalicare il corso del tempo e delle culture. Invece secondo me Harry Potter può farlo perché ha un universalismo, per esempio parla del rapporto generazionale, che per me è il tema più importante di Harry Potter. Il rapporto generazionale fra due mondi diversi, quello di Voldemort, della magia tradizionalista, e quello di Harry Potter, di un mondo più aperto. E questo scontro generazionale lo stiamo vivendo noi in quest'epoca. Quindi quello è uno dei temi fondamentali. Quello che dici tu, invece quello che dice l'autrice di questo articolo, è una cosa che può vederci una persona che ha un legame emotivo con quell'opera, che è legittimo. Ma un legame emotivo. Andiamo avanti. Dal 2019 però, questa scrittrice per bambini, un tempo amatissima, ha, beh, iniziato a esprimere certe opinioni. Allora, fermiamoci un secondo. Certe opinioni. Io non voglio andare su Twitter, perché su Twitter non ci sono più. J.K. Rowling usa Twitter in un modo che sinceramente io le sconsiglierei, se fosse il suo psicologo. Non lo sono per fortuna. Io consiglio a chiunque abbia un po' di amor proprio di abbandonare Twitter immediatamente. Però ho preso una delle cose più infamanti degli ultimi anni scritte da J.K. Rowling, che è un saggio di 3.000 battute, 3.000 parole, scusatemi, in cui dopo la botta incredibile di polemiche legate a un fatto accaduto attraverso Twitter, J.K. Rowling ha scritto per spiegare le sue posizioni. Ora, che cosa ha scritto su Twitter J.K. Rowling? Beh, ha scritto, partiamo soltanto da questo, rispondendo a un articolo in cui si parlava delle persone trans che facevano la transizione M2F, cioè da maschio a femmina, in questo articolo a un certo punto, citando anche degli studi e degli esperti, si esprimeva l'idea che anche chi ha fatto quella transizione è una donna, a tutti gli effetti, sia dal punto di vista dell'identità di genere, sia dal punto di vista sessuale, perché il sesso e la sessualità non esiste, la sessualità biologica non esiste, secondo quest'articolo, e quindi quando ci si deve riferire a una donna che è biologicamente donna, quindi una donna che ha sviluppato dalla nascita questo tipo di manifestazione corporea, bisogna riferirsi dicendo persone con mestruazioni. Tutte sono donne, alcune donne sono persone con mestruazioni, questa è l'idea. E la Rowling si è tirata dietro gli stradi e la violenza della comunità dicendo un tempo le persone con mestruazioni avevano una parola ben precisa, donne. Ora io quando ho seguito quella vicenda ero allibito perché a me pare che si sia personalizzata e moralizzata una questione veramente linguistica, cioè come molto spesso accade le grandi polemiche del mondo nascono intorno a fraintendimenti linguistici e noi non abbiamo socialmente deciso ancora quali sono i confini di certe parole come per esempio donna. Allora al posto di avere una discussione che intenda linguisticamente il significato di certi contenuti abbiamo cominciato a dire ah questa cosa offende le persone trans, offende queste che già vivono tantissime angherie e la Rowling ci si mette. Insomma si è scatenato l'inferno, la Rowling poi ha difeso sempre su Twitter una persona che era stata licenziata per via di opinioni definite transfobiche, insomma un casino immane. A un certo punto la Rowling scrive questo saggio, io vi metto tutti i link in descrizione quindi li trovate se volete poi farvi la vostra idea perché credo sia la cosa più importante e in questo saggio, a quanto pare infamante, la Rowling dice queste cose qua, dice, ve lo leggo brevemente, vi leggo un piccolo passo evidentemente, potrebbe essere una puntata più lunga del solito quindi io vi avviso, ha dice, as I didn't have a realistic possibility of becoming a man back in the 80s, così come io negli anni 80 non avevo la possibilità di diventare un uomo, lei qui parla insomma del fatto che anche lei durante la sua crescita ha subito delle angherie, delle umiliazioni e viveva con fastidio la sua appartenenza al genere femminile e dice It's fine not to feel pink freely and compliant inside your own head. It's okay to feel confused, dark, both sexual and non-sexual, unsure of what, who you are. Cioè, va bene per un periodo della vita avere confusione, essere depresso, avere questo tipo di spaccatura e via dicendo, però la contestazione che la Rowling faceva in questo articolo è che molto spesso, purtroppo, e sempre di più, i processi di transizione di genere vengono utilizzati anche da professionisti come modo per fare un click e risolvere quei disagi adolescenziali che molte persone vivono. Ma ciò non significa, secondo la Rowling, che tutti abbiano bisogno di quella transizione, di quelle cure ormonali, tanto meno di quelle, degli interventi chirurgici. E qui lei continuava e dicendo I want to be very clear here. I know transition will be a solution for some gender dysphoric people, although I'm also aware, through extensive research, that studies have consistently shown that between 60 to 90 percent of gender dysphoric teens will grow out of their dysphoria. E questo è il punto che possiamo essere in disaccordo o in accordo, possiamo discuterne, però tanti, anche professionisti, portano avanti. Cioè, certamente che per un certo numero di persone con dysphoria di genere la transizione ormonale e poi chirurgica può essere la soluzione. Ma gli studi mostrano che fra il 60 e il 90 percento dei teenager con più o meno grave dysphoria di genere nel corso del tempo riescono a uscirne attraverso percorsi di psicoterapia, attraverso cose meno invasive. Quindi questo articolo dice da un lato questo che ho appena detto, dall'altro accusa anche le comunità trans ed LGBT di spingere moltissimo nei confronti della soluzione alla dysphoria di genere con, appunto, percorsi ormonali e interventi chirurgici che, dal punto di vista della Rowling, e lo voglio ribadire anche dal punto di vista di molti psicologi, terapeuti e psichiatri, è una falsa soluzione facile per problemi che in realtà magari si manifestano con la dysphoria, ma hanno altre radici. Ora, di nuovo, io non voglio entrare in questo dibattito perché, ragazzi, non c'ho veramente voglia. Quello che voglio dire è che abbiamo scoperto che J.K. Rowling, la creatrice del mondo di Harry Potter, ha delle opinioni controverse, opinioni che sono discutibili, certamente, ma che sinceramente le hanno attirato una violenza che io raramente ho visto. Ma andiamo avanti. Continua l'articolo di Wired. sulle persone come me. Quindi, ha iniziato a esprimere certe opinioni sulle persone come me e sul fatto che debbano esistere o meno. Ecco, anche qua, basta vedere il link. La Rowling non ha mai detto che non debbano esistere. Non ha mai detto, ah, bisognerebbe eliminare, perché ogni tanto, quando leggi le cose scritte sulla Rowling, sembra che lei dica, ah, bisogna eliminare queste persone. No, 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 no. Lei ha detto, per esempio, che, quello che abbiamo letto nell'articolo, che non per tutti quella lì è la soluzione. Magari per l'autrice dell'articolo sì, ma non per tutti. Non è che perché le cose sono state bene a lei, allora vanno bene a tutti. Guardiamo, in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, la percentuale di persone che iniziano a fare detransizione, cioè che hanno fatto transizione ormonale o, peggio, chirurgica, e che poi a un certo punto si sono pentite di questa roba. Non sono un numero limitato. Cominciano a venire fuori e spesso sono anche sotto la violenza verbale di chi li considera traditori. Andate a vedere certe posizioni. Traditore a un maschio che è diventato femmina e che adesso si pente e vuole tornare ad essere maschio. Traditore della comunità trans e via dicendo. A me sembra che la Rowling parli di quello. Non parli di non debbano esistere. si è spinta fino al punto di suggerire che siamo intrinsecamente pericolose. Una minaccia per le vere donne di tutto il mondo. Anche lì non è esattamente così. Ha detto che portare avanti come normale e come, diciamo così, a prioristicamente giusto l'idea che chi ha una disforia di genere debba subito iniziare percorsi di transizione ormonale e poichirurgica è una minaccia per quelle donne che vivono un certo tipo di disagio e che effettivamente poi vengono soverchiate da soluzioni che non sono soluzioni e quindi mettono a repentaglio la loro vera identità. Ragazzi, cioè nel senso, di nuovo, andiamo a vederle le cose e per quanto la Rowling possa starci sulle balle dice cose discutibili. Io sono sempre dell'opinione che la miglior critica che è stata fatta a J.K. Rowling fu quella fatta da Stephen King in cui su Twitter a un certo punto disse riprendendo una polemica disse semplicemente io non sono d'accordo con quello che dice la mia collega J.K. Rowling è la sua opinione ci sta il mondo è vario semplicemente so che la vediamo in modo diverso punto e non può mai essere il fatto che molte persone si sentono coinvolte emotivamente da quel tema la scusa per scatenare invece il boicottaggio la cancellazione è peggio la violenza perché a me sembra che stiamo perdendo la brocca ma continuiamo l'articolo quando ero piccola ogni parola fuoriuscita dalla penna di J.K. Rowling portava la magia nel mio mondo oggi invece ogni sua parola mi fa male al cuore e qua vorrei fermarmi un secondo perché qui in questa frase noi vediamo esattamente qual è il vero problema il vero problema è l'idolatria il legame emotivo e razionale che soprattutto in un certo momento della propria esistenza noi finiamo per nutrire nei confronti di figure che ammiriamo J.K. Rowling ha una vera colpa e la sua vera colpa non è quello di avere delle opinioni sulla relazione fra transizione di genere ruoli di genere donna e LGBT la sua vera colpa se è una colpa è quella di essere diventata l'idolo di una frotta in mani di adolescenti io non l'ho mai avuto come idolo io come idolo avevo Voldemort no sto scherzando non era il mio idolo Voldemort dicevo io non ho mai idolatrato J.K. Rowling io ho amato tantissimo i libri ma non mi sono mai fermato l'idea oh mio dio J.K. Rowling forse di nuovo perché era un ragazzino privilegiato che non viveva quei disagi incredibili però l'errore lì la grave colpa primaria è quella di essere diventata un idolo quante volte l'abbiamo detto su Daily Cogito non diventare un idolo perché poi quando dirai qualcosa che contraddice l'idea di chi ti idolatra sarai smerdato non diventerai semplicemente uno normale che ha delle opinioni diventerai il peggio del peggio diventerai Morgoth Sauron Hitler Maledetto tu perché in realtà tutto si lega al legame emotivo con l'idolatria e se io ho un idolo e a un certo punto mi accorgo che il mio idolo cazzo è imperfetto come me perché ha delle opinioni sceme oh mio dio attenzione opinioni che esulano dal talento che me lo ha fatto idolatrare e il talento della Rowling è letterario lei ha un grande talento per la letteratura ha creato un'opera straordinaria che di nuovo io amo tantissimo nell'ambito dei ruoli di genere è una femminista con delle idee discutibili cosa? e soprattutto una cosa che colpisce me in prima persona perché io sono parte del gruppo che lei critica ragazzi quella è la condanna a morte quella è la condanna a morte io ho voluto parlare di questo tema non per infilarmi in una polemica anche ma non solo per quello ho voluto perché perché qui è la traccia definitiva di quello che io ribadisco da anni l'idolatria è la vera colpa in ogni ambito della vita e invece è il motivo per cui dicevo noi dobbiamo lasciar vivere Harry Potter a prescindere da J.K. Rowling perché io posso invece non dico idolatrare però ammirare amare un'opera e quell'opera non mi dirà mai poi qualcosa che mi ferirà e le persone invece lo fanno e allora carissima autrice di questo articolo sei tu che l'hai presa storta questa roba qua e mi dispiace perché sei vittima di un sistema sociale, mediatico e forse anche educativo che ci abitua a dare più importanza alle persone che producono le opere che non alle opere stesse e di quello siamo un po' tutti vittime carnefici e quello è è una perdita è un impoverimento incredibile ma posso assicurarti che se tu adesso rileggi Harry Potter senza tenere conto delle opinioni di J.K. Rowling e lo puoi fare lo puoi fare si può fare certo che si può fare mamma mia certo sempre si può fare posso leggere Locke per esempio le opere di Locke senza tener conto del fatto che in qualche modo lui vedeva di buon occhio certe forme di schiavitù posso leggere Harry Potter Aristotele Aristotele no scusatemi questo veramente mi è uscita Unscripted senza tenere conto del fatto che anche lui essendo un uomo di svariate migliaia di anni fa aveva opinioni controverse posso leggere tantissimi autori autrici che hanno fatto detto pensato cose terribili nella vita ma le opere saranno sempre una spanna sopra perché è questo il punto essenziale da comprendere le opere d'arte letterarie musicali sono sempre migliori degli autori sempre l'arte nasce come tentativo di automiglioramento nasce come tentativo di creare qualcosa verso cui tendere e se da un lato abbiamo la storia di Harry Potter che ci migliora ci rinfranca ci ispira ci innalza le opinioni della donna o persona mestruante J.K. Rowling non avranno mai lo stesso effetto ci faranno incazzare soprattutto quando l'avremo idolatrata e allora il peccato originale è sempre l'idolatria è sempre produrci idoli e di nuovo grande attenzione perché produciamo gli idoli produciamo gli idoli per drogarci e dimenticare i nostri limiti gli idoli sono i totem con cui noi ci riempiamo la mente per dimenticare il fatto che in realtà siamo tutti difettosi questo è il punto ma andiamo avanti con l'articolo c'è c'era aspetta perché esatto eccolo qua c'è questa frase è uno dei link dell'articolo di Think Think è un altro sito che spesso pubblica cose legate a community LGBT e c'è una frase che dice over the past several months the author has consistently demonstrated that she doesn't emulate the themes of her own books cioè negli ultimi mesi negli ultimi svariati mesi l'autrice ha svariate volte dimostrato di non emulare di non aderire ai temi scritti nei propri libri ma la domanda è ma perché cazzo dovrebbe farlo ma perché cioè è come se volessimo che Nietzsche scrivendo lo Zaratustra fosse diventato un saggio della montagna con i sandali ai piedi e che andasse in giro a predicare l'oltre uomo e la fine no Nietzsche era un baffone appassionato di musica innamorato della sorella che passava gran parte delle proprie giornate un po' nei boschi da solo probabilmente anche a masturbarsi alla cremente e un po' a casa sua sempre a masturbarsi alla cremente perché mai dovrei pensare che un autore per forza ha valore umano morale se aderisce ai propri libri e opere van gogh non era mai all'altezza delle sue opere anzi era un omuncolo heidegger è stato un testa di cazzo politicamente ha scritto grandi opere potrei fare migliaia di esempi ma perché mai perché asimov dovrebbe essere all'altezza dei suoi grandi personaggi ma di cosa stiamo parlando ma come queste persone vivono la letteratura e l'arte come la creatività ma che tarlo bisogna avere in mente per pensare a queste cose ma vabbè andiamo avanti andiamo avanti ogni cosa omofoba o transfobica che i ragazzi queer sentono quando sono piccoli diventa una voce che li seguirà per molto tempo sentiamo parenti amici genitori dire cose terribili su di noi e a noi molti di noi combattono contro queste voci ogni giorno e quando una di queste voci proviene dall'autrice che ti ha insegnato ad accettare te stessa da una persona che pensavi vedesse realmente te e i ragazzi come te il dolore è così grande che spero sinceramente che Rowling non lo possa mai capire non lo augurerei a nessuno in questo pezzo che peraltro mi dispiace però è un pezzo molto personalista questo paragrafo che perde qualsiasi valenza argomentativa cioè è proprio una confessione però a me dispiace molto per l'autrice io lo dico ho grande empatia per questa autrice perché se la sofferenza che ha vissuto durante la sua adolescenza se questa mancata accettazione che sono sicuro ha vissuto se questa discriminazione l'ha fatta soffrire mi rendo conto che purtroppo il sistema mediatico ci ha abituati ad aggrapparci ai nostri idoli come se potessero risolvere i difetti del mondo che ci circonda e non è così non è così anzi più idoli ti produci più verrai deluso è proprio una regola universale è il motivo per cui quando uno mi scrive un commento mi incontra e mi dice idolo gli dico no col cazzo col cazzo perché l'ultima cosa che un essere umano pensante deve voler diventare è l'idolo di qualcun altro al massimo puoi dirmi apprezzo i tuoi video fai un buon lavoro perfetto ci sto mi fa contento ma non attribuirmi qualcosa che non posso sostenere sono un essere umano con difetti con opinioni controverse che può essere criticato che può sbagliarsi e va bene così siamo tutti su questa barca se tu idolatri qualcuno in risposta a un disagio profondo ed emotivo ti stai destinando a una sofferenza perché prima o poi fidati quella persona dirà una roba che contraddirà quel legame storto sbagliato ed emotivo e continua l'autrice non la odio onestamente sarebbe più facile se lo facessi ecco lei non la odia in realtà io la roba che leggo su twitter via dicendo se ce n'è di odio dentro di me da qualche parte c'è una bambina che l'ama ancora nonostante tutto quella bambina ha molta esperienza quando si tratta di amare le persone che l'hanno fatto del male non chiede mai perché vuole solo sapere che cosa ha fatto di sbagliato e come può rimediare difficile dirle che non è rimasto più niente a cui per un rimedio è che ci sono posti in cui non possiamo tornare posti come Hogwarts e vabbè qua insomma questa poesiola la mettiamo da parte danni irreparabili ricordo quando uscì il primo libro il ragazzino ha lampanato nell'immagine sulla copertina la fiera al libro della scuola la fiera del libro a scuola all'epoca era solo un volume in più sullo scaffale accanto a bui Nicola ai piccoli brividi ah che belli i piccoli brividi sarà onesta nel mio caso non è stato un colpo di fulmine in stile la storia infinita quando ho aperto il libro non sono stato trasportato sa anche la prima volta che un libro mi è sembrato pericoloso vedere i personaggi che avevo imparato a conoscere le prese con minacce da adulti mi ha fatto sentire capita in arrio visto riflessa la mia infanzia difficile condividevo la sua frustrazione nei confronti del mondo degli adulti e quel groppo di rabbia che gli ribolliva nel petto e non riusciva a capire appieno come Ron sapevo cosa significava andare a scuola con vestiti di seconda mano preoccuparsi dei soldi in un mondo che nessun bimbo dovrebbe condividere e conoscere sapevo anche cosa significa essere presi in giro per i capelli rossi in Ermione rivedevo la mia inflessibile spesso fastidiosa idea di giusto o sbagliato che spesso faceva finire sia lei che me nei guai dopo Azkaban ero totalmente rapita ecco anche qua io vorrei dire vorrei dire un'altra cosa questo tipo di identificazione è una cosa che dovremmo insegnare a limitare non lo facciamo i libri stanno lì per farci capire dove migliorare la nostra vita non stanno lì per dirci ah tu sei come quel personaggio è comprensibile che in adolescenza ci sia questo tipo di identificazione ma io lo voglio ribadire e lo ribadirò sempre ogni volta in cui qualcuno mi dirà sei proprio senza cuore io lo dirò cercate di non identificarvi nei personaggi dei libri dei film usate la letteratura l'arte invece per farvi mettere in discussione certamente sono convinto che una persona che magari vive un'infanzia difficile un'adolescenza complicata e discriminata abbia una minor propensione a dire anche nei libri mi sento criticata e va bene ok ci può stare però dall'altra parte l'identificazione nei personaggi e nelle storie è di nuovo un'arma a doppio taglio che porta i suoi danni più tardi nel tempo appunto quando poi finisci per scoprire che l'autrice del libro che ha idolatrato non la pensa come tu la pensi su te stessa e lì c'è il patatrac che finisci per odiare anche le storie se invece le storie le usi per scavarti dentro e dire ok ma chi sono veramente io al posto di identificarti e quindi dire ah io sono questa cosa qua allora lì è più difficile che i libri ti facciano del male è molto più facile che i libri ti dicano qualcosa di diverso ogni volta in cui li leggerai mi rendo conto che è difficile psicologicamente però credo sia anche molto importante almeno dirla questa roba qua non identi tu non sei un personaggio dei libri che leggi non lo sei punto quando Hogwarts Legacy fu annunciato per la prima volta mi sono tenuta all'allarga dalle notizie non volevo vedere il gameplay né tantomeno rimanere colpita dal trailer li ho evitati come la peste perché temevo che sarei stata combattuta che avrei visto un gioco capace di cogliere la magia dei libri che il mio cuore mi sarebbe balzato fuori dal petto avevo paura di vedere la sontuosa grafica del film ricreata in un hardware così quando ho ricevuto un codice per Hogwarts Legacy mi sono preparata psicologicamente quando casa non è più casa pensavo che in questa sezione avrei dedicato molto tempo a spaccare il capello in quattro passando in rassegna tutte le mie rimostranze su come il gioco si discosta in materia di partenza ma non ci sono capelli da spaccare perché nel gioco non c'è niente che si salvi e qua parte questa recensione che recensione in realtà non è più tempo trascorrevo in questa versione di Hogwarts più avvertivo un'assenza tangibile la netta sensazione che mancasse qualcosa ho pensato che la colpa fosse della direzione artistica poco brillante di personaggi monodimensionali che sembrano versioni sottomarca di quelli che conosciamo e amiamo ancora della vistosa mancanza dell'iconica colonna sonora di John Williams ma c'è un'assenza ancora più grave ecco in realtà la colonna sonora non è niente male cioè nel senso lo voglio dire certo che non c'è John Williams però è una buona colonna sonora questo gioco ha un buco nel posto in cui dovrebbe esserci il cuore all'inizio non si nota bisogna prendere confidenza smettere di cercare le cose che ci sono iniziare a prestare attenzione a quello che invece non c'è manca un senso di familiarità il mondo è inanimato i modelli di personaggi e le animazioni facciali sono lì ma allo stesso tempo in qualche modo sono assenti i personaggi sono animati ma di sicuro non sembrano vivi e fino a qua io posso dire vabbè sì è come giocare a un mass effect non c'è niente di più niente di meno però è molto soggettivo cosa vuol dire che non c'è familiarità io quando giro per Hogwarts in Hogwarts Legacy mi diverto cioè nel senso vedere Peeves che se ne va in giro per il castello a fare i dispetti agli studenti è una roba molto figa io ve lo dico però vabbè questa è una cosa soggettiva la storia oltre ad essere radicata nell'antisemitismo eccolo qua allora ragazzi è da quando è uscito il primo libro di Harry Potter in cui c'era un elfo domestico o un goblin della Gringot che si parla dell'antisemitismo in Harry Potter e via dicendo ma se voi andate a guardare associazioni ebraiche di ogni genere tutti quanti dicono sempre in una sola voce ma no non c'è antisemitismo guarda casa qui qui a urlare antisemitismo non sono ebrei non ci sono almeno che io abbia visto poi se me li sono persi mandatemeli ma non ci sono e non c'erano neanche quando sono usciti i primi libri con la Gringot oh mio Dio guarda queste sono delle persone di bassa statura con una zona enorme e che tengono tutti i soldi del mondo evidentemente ebrei ma ragazzi miei cioè nel senso ma veramente siamo a questo livello di dibattito veramente siamo a questi livelli di dibattito allora devo prendere il ciclo della fondazione e mostrare tutti i casi oddio di discriminazione razziale oddio di di Asimov che era uno e la Rowling ha detta delle più importanti associazioni ebraiche mondiali che di nuovo sono scritte ci sono le difese scritte in lettere in articoli è una che che dona che è sempre disponibile quindi veramente siamo hanno tirato fuori persino questo peraltro mi verrebbe da dire è ambientato questo videogioco 150 anni prima di Harry Potter quindi ci può anche stare che ci siano delle cose retrograde è come se io contestassi di nuovo la visione che c'ha dello schiavismo Aristotele ma cazzo ragazzi sono passati più di due millenni da Aristotele e il mondo era diverso ora posso dire eh ma Aristotele brutto schiavista di merda certo lo posso dire ma posso essere più contento invece del fatto che nel frattempo il mondo è avanzato per esempio e dire per quanto Aristotele fosse un intelligentone aveva dei limiti legati al suo tempo e questa cosa è liberatoria i miei idoli hanno dei difetti non lo sappiamo fare ma andiamo avanti oltre ad essere radicata nell'antisemitismo e l'antisemitismo è spiegato così una cabala globale cerca di porre fine alla schiavitù ma questo è un male perché agli schiavi piacere essere schiavi non è nemmeno avvincente non è nemmeno avvincente è una ricostruzione fantasiosa io non ci ho visto niente del genere sono ancora molto presto nella storia però mi sembra proprio una cazzata vabbè è un'opera confusa un campo minato di domande senza risposte motivazioni che non vengono spiegate vabbè come tante storie che vengono oggi create con hype marketing e a questo proposito i personaggi spesso dichiarano apertamente le motivazioni e la base delle loro azioni ma non sembrano credibili e nemmeno particolarmente coerenti dice di essere Hogwarts ma non sembra Hogwarts anche andando al di là delle polemiche che hanno coinvolto Rowling il gioco dà l'impressione di essere stato messo insieme per sfruttare la smania nostalgica dei fan senza che ci sia stata alcuna attenzione a renderlo effettivamente meritevole di essere giocato ma amica mia tu stai dicendo l'esatto opposto tu mi stai dicendo che questo gioco non ti piace perché non hai incontrato la tua smania di fan cioè tu mi stai dicendo io volevo Hogwarts Hogwarts con tutto quello che a 13 anni ho visto in Hogwarts e questo gioco non me l'ha dato e quindi non va bene quindi mettiti d'accordo è un gioco diverso dai libri di Harry Potter certo grazie al cielo ha dei difetti sì di nuovo ha delle meccaniche anche molto bambinesche ripetitive sì non è che mi sta esaltando però questa cosa qua ragazzi mamma mia cioè io ho capito LGBT ma un po' di logica anche LLGBT oltre a tutto il resto un po' di logica vabbè anche soltanto per questo motivo non posso consigliarvi in coscienza di spendere soldi per comprare Hogwarts Legacy considerando chi questo gioco favorisce e chi danneggia beh non vale assolutamente la pena meno che il vostro obiettivo non sia quello di fare del male a qualcuno oooola capito ragazzi noi che giochiamo Hogwarts Legacy facciamo del male eh sì infatti adesso devo mettere la mia vera voce adesso sto svelando la mia voce io sono un troll di caverna al soldo di Lord Voldemort e voglio soltanto farvi del male e voglio i vostri soldi i vostri abbonamenti abbonatevi ma detto questo torniamo all'articolo parliamo però di un problema conosciuto è lo stesso che vediamo anche negli ultimi film ambientati nel Wizarding World i nuovi film sono brutti non solo dal punto di vista morale ma anche da quello della qualità allora di nuovo a me la saga di Animali Fantastici dire che mi ha fatto cagare è un eufemismo è orrida inutile sono d'accordo brutti film brutte interpretazioni sceneggiatura scritta con delle scimmie alla tastiera a posto ma cosa vuol dire brutti del punto di vista morale cosa vuol dire cosa diavolo significa perché c'era Brad Pitt no Brad Pitt Johnny Depp ho fatto come Maccio Capatondo ho fatto confusione fra Brad Pitt e Johnny Depp nella qualità non sono divertenti c'è lo spettacolo sembra tutto piatto e confuso se fate attenzione si può notare il costante declino nella qualità dei nuovi film con i titolari dei propri intellettuali che cercano di sperare ogni rischio vabbè ok qui sti gazzi andiamo avanti unità c'è una correlazione diretta tra come oggi Rowling manifesta la sua intolleranza e quanto piatti e senza anima siano diventati i media ambientati nel Wizarding World non credo sia una coincidenza ecco ragazzi tenetevi forte perché siamo di fronte al capolavoro penso che il motivo sia che le persone LGBTQIA plus e i loro veri alleati sono tra le menti creative più brillanti del mondo e questi film e Hogwarts Legacy sono stati realizzati in gran parte senza di loro l'industria dei videogiochi è molto più queer di quanto la maggior parte delle persone si renda conto tutti gli aspetti che conoscete e amate dei vostri giochi preferiti sono stati realizzati da persone queer tutti gli aspetti che conoscete e amate dei vostri giochi preferiti sono stati realizzati da persone queer what cioè nel senso va bene ma in che senso cioè a me non pare io non sono un esperto di videogiochi ma sarebbe veramente un'eccezione incredibile che questa ottava arte sia l'unica arte in cui tutte le cose di valore sono prodotte da una categoria ben specifica e molto minoritaria di persone perché poi ricordiamoci le persone che aderiscono a questo tipo di definizione gruppo è una minoranza minchia ma seriously posso pensare che nello sviluppo dei cyberpunk ci sia una componente creativa molto forte ma io non credo che in Red Dead Redemption 2 ci sia una componente queer molto forte o in GTA San Andreas oppure posso fare altri esempi non credo altrimenti oppure sono veramente molto creativi riescono a produrre un mondo totalmente contrario rispetto a quello che poi ci raccontano perché boh non so ragazzi qui si entra veramente nell'ambito della comicità non mi riferisco continua l'autrice solo ai registi o ai produttori esecutivi parlo dei concept artist che danno vita ai vostri giochi preferiti i sound designer gli ingegneri i technical artist i compositori i musicisti autori tester produttori le mani che creano i migliori giochi del mondo sono queer siamo la vita il cuore pulsante e la magia dei grandi giochi a me dispiace che una persona sia così incredibilmente delusional nell'ambito della valutazione della creatività umana ma veramente signore e signori veramente qui siamo di fronte a un'opera creativa in sé per sé forse parla di se stessa è un articolo estremamente creativo questo nel vuoto abissale di Hogwarts Legacy riconosco la solidarietà silenziosa delle persone queer e dei nostri alleati nel settore dello sviluppo di videogiochi attenzione perché la chiusa ragazzi siamo a livelli veramente dei migliori capitoli del principe mezzosangue le persone che hanno detto di no quando sono arrivate le offerte di lavoro quelli che non hanno risposto alle email di Portkey Games l'etichetta di proprietà di Warner Bros che ha pubblicato il gioco chi ha fatto capire con gentilezza i propri colleghi che a lavorare a un gioco di Harry Potter sarebbe stato dannoso per la comunità trans e chi ha ascoltato e risposto ok grazie di avermelo detto le persone che hanno anteposto i loro principi morali e i loro cari ai soldi facili allora finisco e poi vi commento questa cosa e vi faccio capire se già non avete capito qual è il problema di questo articolo probabilmente non saprò mai i vostri nomi ma voi sapete chi siete vi vedo vi sono grata più di quanto le parole potranno mai esprimere grazie per avermi reso facile chiudere la storia di Hogwarts e di Harry Potter la magia è sparita e non tornerà mai più perché senza di noi il Wizarding World è senza cuore tanto quanto la sua creatrice l'autrice in questa chiusura ci sta dicendo che il problema di Hogwarts Legacy è che al suo interno non ci sono creativi legati alla alla al mondo LGBT ma mi sta anche dicendo che quando i sviluppatori hanno cercato di contattare persone queer LGBT per lavorare a questo gioco questi gli hanno detto no io credo che nella mente di questa persona ci sia della confusione veramente irrisolta perché tu mi stai dicendo che Hogwarts Legacy fa cagare per colpa tua fa cagare perché le persone giudicando male la relazione fra l'opera letteraria e l'autrice fra il mondo del Wizarding World e JK Rowling hanno rifiutato di mettere a disposizione la propria creatività per creare un gioco che fosse anche adatto alle tue aspettative quindi questo articolo accusa la comunità LGBT queer di aver lasciato che Hogwarts Legacy diventasse un prodotto che fa male alla comunità queer fuck ragazzi barca puttana e quando vedo quante persone stanno condividendo quest'articolo dicendo vedete boicottiamo Hogwarts Legacy io credo che ci sia un problema di logica e mi dispiace ma un problema di logica è diciamo così molto più fondamentale di qualsiasi altro problema si possa vivere perché se sicuramente non hai la logica poi anche le tue identità di genere e tutto quanto beh te le incasini in una maniera incredibile allora io ho voluto leggere questo articolo insomma durante l'articolo ho fatto i miei commenti ma la cosa veramente più importante di tutte è comprendere quanto sia fondamentale evitare di avere questa relazione tossica con le opere che amiamo per me questa è una lezione fondamentale su quanto sia necessario ritornare a una relazione razionale con le opere che amiamo con gli autori che ammiriamo che ammiriamo che non possono diventare idoli da piedistallo che sono inevitabilmente destinati ad autodistruggersi e quindi distruggermi J.K. Rowling è imperfetta ma magari anche una pezza di merda ma io che ne so ma io che diavolo ne so magari J.K. Rowling è la persona peggiore del mondo ma in che modo questo dovrebbe trasformare un'opera generazionale in qualcosa di indesiderabile non fatevi convincere da stronzate come queste dell'articolo letto che sono tante lì fuori stronzate che cercano di dire le opere pagano la colpa dell'imperfezione dei propri autori perché questa signore e signori è la morte della creatività perché tutto questo discorso sulla creatività dell'autrice mi fa capire che in realtà lei di creatività non ne capisce veramente nulla per lei la creatività è legata a un'appartenenza per lei la creatività e l'amore nei confronti della letteratura delle opere del videogioco dell'arte è solo legata al senso di appartenenza che sente e che forse non è mica colpa sua forse è la risposta a quelle angherie vissute in adolescenza ed è un'autodifesa io qui ho letto un articolo che difende diciamo l'innocente e ingenua visione che un adolescente che soffre ha dell'arte e della creatività e se la porta dietro in modo irrisolta anche nella vita adulta ed è un peccato non lasciatevi convincere J.K. Rowling magari è veramente Voldemort la sua opera racconta la sua stessa sconfitta ed è questa la cosa a cui dobbiamo tendere in Harry Potter tu puoi ancora non identificarti ma ammirare delle caratteristiche così come in Severus Snape tu puoi riuscire a vedere alcuni aspetti della difficoltà di che cos'è l'amore l'amicizia in Albus Silente Dumbledore puoi ancora vedere i difetti della saggezza in Hermione puoi tranquillamente scorgere la sicumera dell'intelligenza che poi porta a gravi errori in Ron puoi vedere la dignità la dignità di qualcuno che non ha un'immagine esteriore ammirata ma che dentro di sé tiene qualcosa di buono e tutto ciò è strumenti per mettermi in discussione se io vivo così la letteratura e l'arte non ci sarà opera che potrà farmi del male anzi le opere diventeranno sempre mie alleate ma se invece vivrò la mia vita dicendo nell'arte voglio trovare me stesso negli autori che ammiro voglio trovare solo me stesso voglio trovare la perfetta corrispondenza della complessità che io sono a un certo punto quei libri mi accoltelleranno quegli autori mi deluderanno e io del mondo non capirò più un cazzo pensa di me stesso e questo è quello che penso riguardo di questa polemica totalmente superflua che però siccome andava affrontata perché alcuni spunti credo sia stati interessanti adesso per chi è in live non andateve perché leggiamo qualche commento e per chi è indifferita insomma spero che la live sia stata comunque utile spero che ci sia stato qualche spunto interessante anche se magari non siete d'accordo ci sta ragazzi io sono peggio di JK Rowling io sono molto peggio mi sbaglio molto di più di lei sono sicurissimo di questo non vogliatemi troppo male per tutto ciò ci vediamo con la prossima live che si terrà sabato 18 alle 18 con Mirko Parabellum quindi non mancate sarà un sabato da non perdere e niente ci vediamo alla prossima ragazzi è stata una cavalcata devastante adesso vado a vedere i miei testral tanto prima o poi qualcuno mi ammazza ciao belli buona serata a Grazie a tutti.